Un assordante silenzio prima, poi musica, lacrime e parole, sia dentro che fuori la chiesa della Trinità a Potenza. Due racconti opposti di una narrazione che si lega nel nome e nel ricordo di Elisa Claps. Oggi nella chiesa al cui interno venne ritrovato a distanza di 17 anni dalla scomparsa avvenuta nel 1993 il corpo della ragazza uccisa da Danilo Restivo, si è svolta una funzione religiosa celebrata dal vescovo di Potenza, Salvatore Ligorio. Fuori da quelle mura però erano oltre 500 cittadini che al fianco del fratello di Elisa, Gildo e grazie all'organizzazione di Libera hanno rappresentato tutto il loro sdegno per la scelta prima di riaprire la chiesa e poi di celebrarvi messa. Continuano con l'atteggiamento arrogante e supponente e quindi oggi vogliamo far parlare Elisa, infatti il testo del volantino è portatemi con voi ovunque ma non in questa chiesa perché il segnale è esattamente questo. Io mi auguro che prevalga finalmente la ragionevolezza e che si inizi un dialogo serio con la famiglia e con la città che come vedete accorre numerosa ogni volta che proponiamo iniziative di questo tipo a testimonianza del fatto che c'è una profonda indignazione per l'atteggiamento che la Curia Potentina sta continuando ad avere su questa vicenda. Si sono registrati anche momenti di tensioni all'uscita dalla funzione tra alcuni dei presenti e chi ha partecipato alla celebrazione ma soprattutto nei confronti di Ligorio. Il vescovo che nella sua omilia citando i brani della scrittura letti poco prima ha ripetuto io resto quieto e sereno come un bimbo svezzato nelle braccia della madre evidenziando la libertà per chi segue Cristo come per chi non vuole seguirlo. Il vostro messaggio di questa mattina alle orecchie di chi vuole che giunga. Prima di tutto a quel parroco che nel podcast ha detto che se gli toglievano le catene avrebbe fatto tremare questa chiesa e questa città. Ecco ancora una volta noi ci rivolgiamo a quel prete e diciamo a lui lo invitiamo spezza quelle catene e parla. Una crepa tra la comunità Potentina e la Curia legata al caso Claps che con il passare degli anni sembra non potersi rimarginare.